Allora Loris, io stamattina mi sono svegliato con la voglia di imbiancare casa, ma sinceramente non so minimamente dove partire. Cosa mi consigli? Allora, intanto mi dovete dire se avete problemi di muffa oppure no e quindi vediamo come intervenire per risolvere prima questa problematica. Dopodiché bisogna decidere sul colore. Il colore vi consiglio colori chiari se avete un ambiente poco luminoso, mentre se degli open space locali molto luminosi a quel punto si può usare un po' di più con dei colori un po' più intensi o addirittura passando a delle decorazioni, dei decorativi stil novo che sono molto attuali. Ok, quindi in negozio ovviamente troverò senz'altro materiale tutto disponibile, se eventualmente qualcosa non è disponibile reperibile nell'arco di breve tempo. Perfetto, a presto. Ciao a tutti.